In merito alla segnalazione della consigliera comunale Gisela Botticchio ad intervenire anche la dirigente scolastica Anna Vassallo del primo circolo didattico Gino Landolfi. Mi sono recata questa mattina presso la scuola materna ed ho appurato che i riscaldamenti sono accesi dalle 7.30 alle ore 12 e dalle 13 alle 15.15. Inoltre il personale dichiara che le aule sono adeguatamente riscaldate e i bambini non hanno alcun disagio legato a eventuali basse temperature. D'altra parte, sottolinea la Vassallo, se così fosse stato avremmo avuto le lamentele dirette dei genitori. Pertanto anche l'ente comunale su richiesta ha provveduto a far aumentare i tempi di riscaldamento in tutti i plessi scolastici del primo circolo. Per quanto riguarda invece la segnalazione riguardo il bagno del personale didattico e non dei bambini, questa mattina lo scaldino era regolarmente funzionante con una minima perdita d'acqua come si vede dalla foto. Tutto in regola per quanto riguarda i bagni dei bambini e il prefettorio che è stato completamente riqualificato durante il periodo estivo, insomma, la nostra scuola, conclude la Vassallo, è bella, pulita e accogliente, puntualizzando che ha provveduto ad inviare invito formale al consigliere Botticchio per far visita a tutti i plessi del primo circolo in occasione dell'open day che si svolgerà giovedì 17 gennaio per avere una visione completa ed esaustiva e non parziale degli ambienti scolastici.